incidente a borgo santa maria muore un 87enne vaccini domani prenotazioni agli over 50 da mercoledì tocca i quarantenni riaperture dopo sette mesi si torna in piscina dopo la pandemia tornano anche i concerti al teatro rossini una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv che come ogni seguera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre questa è rossini news il nostro telegiornale tg che in questa serata di venerdì 14 maggio apriamo con la cronaca e purtroppo con un incidente mortale incidente che ha avuto luogo questa mattina poco prima delle 10 a borgo santa maria lungo strada giovanni lancisi a perdere la vita è stato un uomo di 87 anni due le vetture coinvolte nello scontro un autocarro fiat fiorino condotto dall'uomo classe 1934 e residente nella frazione di borgo e l'altra una fiat 500 guidata da una ragazza di 28 anni sempre residente del posto dalle prime indagini è emerso che il conducente del fiat fiorino proveniente da bordo strada in un'area privata si è immesso sulla strada provinciale 38 collidendo con l'autovettura proveniente da tavuglia e diretta verso borgo santa maria in seguito all'incidente l'87enne è purtroppo deceduto si ipotizza che l'uomo possa essere stato colto da un malore poco prima dello scontro o che abbia bottuto violentemente il capo proprio durante lo schianto ad intervenire sul luogo dell'accaduto oltre ai sanitari del 118 che hanno dichiarato il decesso dell'uomo anche i vigili del fuoco che hanno strato il corpo dall'abitacolo e la polizia locale ferita invece e soccorsa dai sanitari la conducente ventotenne dell'altro veicolo cambiamo argomento apriamo la pagina della sanità parlando di vaccini perché si apriranno in anticipo rispetto a quanto precedentemente ipotizzato le prenotazioni per i cittadini marchigiani compresi nella categoria fra 50 e 59 anni dopo l'avvio delle richieste per le persone con comorbità infatti da domani sabato 15 maggio a partire da mezzogiorno si potranno registrare sul sito della regione anche le persone della stessa fascia d'età senza patologie la somministrazione per quello che riguarda la fascia d'età 50 59 partirà da lunedì 17 maggio invece mercoledì 19 maggio saranno aperti gli slot di prenotazione per i cittadini di età compresa tra 40 e 49 anni l'inizio delle somministrazioni per questa categoria però è prevista per fine giugno infine dalle direttive emesse dalla cabina di regia delle vaccinazioni che si è svolta nel pomeriggio di ieri è emerso che entro martedì 25 maggio saranno vaccinati tutti i caregiver che hanno effettuato la prenotazione finora il servizio sanità della regione marchi ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.462 tamponi di cui 2.519 nel percorso nuove diagnosi i positivi sono 252 con 65 casi in provincia di pesaro e urbino sette invece i decessi notificati ieri sera tra questi una 88enne che risiedeva a mondolfo per mesi vi abbiamo parlato dello stato di sofferenza di tante attività produttive costrette alla chiusura per pandemia ora finalmente ci stiamo occupando con frequenza di riaperture domani ad esempio come previsto dal decreto del governo draghi si potrà tornare a tuffarsi in vasca e a frequentare le piscine all'aperto e non accadeva da sette mesi dal 25 ottobre alle 14 maggio tanto sono rimaste chiuse le piscine come imposto dalle restrizioni da pandemia ora il decreto riaperture del governo draghi presuppone che da domani sabato 15 maggio sia il momento adatto per poter tornare a praticare l'attività nelle piscine rigorosamente all'aperto per quello che riguarda le riaperture al pubblico dunque si riparte non ancora in condizioni normali ma comunque con una parvenza di normalità tra tante regole prenotazioni obbligatorie percorsi obbligati impossibilità a utilizzare gli spogliatoi ma è una ripartenza è una ripartenza felice salutata qui alla piscina del parco della pace anche con un messaggio a distanza del campionissimo filippo magnini che ha portato il suo saluto il suo incoraggiamento a questa ripartenza all'attività della società sport village pesaro siamo molto contenti di questa ripartenza naturalmente sarà una ripartenza graduale il 15 maggio possono aprire soltanto le piscine all'aperto e le attività di fitness all'aperto dal primo di giugno riapriranno le attività di fitness al chiuso stiamo aspettando il 17 maggio per sapere se potremo riaprire al pubblico anche le piscine coperte però noi abbiamo la fortuna di avere un impianto che è grandissimo anche all'aperto e quindi già da domani mattina alle sette e mezza siamo aperti con una piscina che è l'unica piscina olimpica della regione che può ospitare oltre 100 persone contemporaneamente ci siamo preoccupati di ospitare i nostri utenti in massima sicurezza come prescrivono le norme e quindi abbiamo pensato ad un ingresso alla reception dove c'è un triage dove le persone dovranno misurarsi la temperatura e darsi nelle mani prodotto specifico e disinfettante togliersi le scarpe mettersi le ciabatte oppure i copri scarpe accedere attraverso un percorso diviso maschi femmine passano dentro gli spogliatoi senza fermarsi e accedono al piano vasca quest'area esterna che voi potete vedere dove troveranno centinaia di panchine dove appoggiare i propri zaini le proprie borse si potranno cambiare spogliare bordo vasca in fondo alla vasca c'è un ci sono tre docce all'aperto che serviranno per bagnarsi prima di entrare in vasca e poi una volta bagnati una volta finita l'attività serviranno per sciacquarsi dal cloro insomma ci sono anche quattro cabine all'aperto che servono per cambiarsi per chi lo vorrà e e poi alla fine di di tutto alla fine dell'attività c'è un percorso sempre a senso unico dove le persone usciranno e ritorneranno nel parcheggio senza mai incrociarsi con quelli che entrano in questo modo è un sistema che abbiamo già testato l'anno scorso siamo in grado di garantire la il massimo la massima prevenzione contro insomma il contagio la garanzia attuale il fatto che si accede lo ricordiamo solo su prenotazione un'altra cosa si accede solo su prenotazione noi abbiamo un sistema informativo che tiene traccia di ogni persona che viene per esempio nel nuoto sappiamo in quale corsia vanno le persone dovesse esserci un problema siamo in grado di informare le persone che erano presenti con la persona nella corsia per esempio in corsia stanno 5 6 persone e quindi se una persona se l'asur dovesse chiamarci per chiederci chi era vicino a una determinata persona abbiamo i dati per poterlo fare ricordo ancora che nell'impianto si entra sempre con la mascherina e la mascherina si toglie soltanto quando ci si bagna quindi sotto la doccia o in vasca quando si fanno le attività c'è chi riapre e chi continua a non poterlo fare uno dei casi che fanno più discutere quello dei negozi interni ai centri commerciali costretti fin dal 2020 a serrande perennemente abbassate durante il weekend in settimana ci sono state proteste per un provvedimento sempre più mal digerito come ci ricorda il segretario comunale di cofcommercio davide ipaso aspettiamo che il governo decida è un anno che noi gli mandiamo fac continui spiegando quali sono le motivazioni di questa incongruenza un negozio di un centro commerciale faccio un esempio uno dei nostri associati all'entrata della porta c'è scritto massimo quattro persone davanti c'è il supermercato dove dentro ci sono centinaia di persone che sono assembrate come è successo due sabati fa non dico in quale centro commerciale perché le casse erano poche questo non ha senso continuiamo a dirgli che non ha senso e io ricordo soltanto il periodo natalizio che è stata devastante perché il prefestivo e il festivo l'elotto di dicembre per quattro giorni i negozi all'interno del centro commerciale sono stati chiusi nel momento topico in cui un'attività incamera quell'ossigeno necessario per per vivere e tu non gli dai l'opportunità di vivere questa è la dimostrazione di politici che non hanno la benché minima idea di come funziona il mondo reale di nuovo cronaca perché quella di oggi è stata una mattinata intensa anche per i vigili del fuoco dei comuni limitrofi a quello pesarese la squadra di fano infatti dovute intervenire in via fattori insieme ai sanitari del 118 per soccorrere un uomo che intento lavorare nel campo è rimasto incastrato negli ingranaggi della moto zappa che stava utilizzando l'intervento dei soccorsi ha permesso di liberare l'individuo ma viste le ferite riportate nell'incidente l'uomo è stato trasportato nelle ambulanze all'ospedale torrette di ancona per accertamenti una squadra di vigili del fuoco di macerata feltra insieme a un autobot di urbino è invece intervenuta sempre questa mattina nel comune di monte copiolo per un incendio che ha avuto origine da delle sterpaglie e che è stato bloccato prima che le fiamme raggiungessero il bosco limitrofo è un'abituazione situata sempre nelle vicinanze nel pomeriggio erano ancora presenti alcune unità intente a bonificare la zona vista la presenza di focolai ancora attivi ancora cronaca perché è stato comunicato direttamente dal suo titolare umberto carriera attraverso un post su facebook il tentativo di furto avvenuto questa notte nel ristorante la macilleria di via delle galligherie a pesero le segnalazioni di strani movimenti nell'area giunte all'autorità probabilmente da chi abita nelle adiacenze del ristorante hanno permesso agli agenti di intervenire rapidamente mentre i due malviventi si trovavano ancora sul posto intorno alle 4 di notte uno dei due ladri è riuscito a fuggire mentre l'altro è stato bloccato e subito arrestato dalla polizia proprio all'interno del locale l'arrivo degli agenti ha dunque impedito il furto di denaro o di beni presenti all'interno del ristorante qualche danno invece è stato riscontrato al punto d'accesso utilizzato dai due uomini per introdursi nel locale gli agenti stanno proseguendo le indagini e controlli per rintracciare il secondo individuo protagonista del colpo e per verificare che nessun'altra attività della zona abbia subito effrazioni proprio qualche giorno fa nel nostro telegiornale vi abbiamo illustrato i tre nuovi appuntamenti organizzati dall'ente concerti di pesero dopo il lungo stop dettato dall'emergenza sanitaria abbiamo parlato proprio di questo periodo di pausa e anche delle conseguenze derivate per il settore con il direttore artistico dell'ente concerti Federico Mondelci vediamo dunque l'intervista realizzata da Daniele Romagna le limitazioni e comunque le regole in questo periodo post covid sono ancora molto rigide sia per l'accesso al teatro che quindi per la fruizione degli spettacoli in generale però io credo che ora soprattutto andando verso la buona stagione con tanta attività che si verrà programmata all'aperto quindi in anfiteatri all'aperto si riuscirà a ritornare al piacere della musica io penso che guardiamo con un certo ottimismo il futuro tutto ciò che è legato alla cultura e vorrei dire meno tutelato rispetto a altri settori della comunità della società perché comunque gli artisti vivono in questa bolla di bellezza di contatto con l'arte che a volte fa perdere un po' di vista anche quelli che sono gli aspetti pratici della vita però indubbiamente c'è stato da parte insomma delle istituzioni da parte dello Stato è stato comunque recentemente un buon interesse insomma a sostegno di queste fasce diciamo di lavoratori che comunque hanno sofferto moltissimo in questa epoca della pandemia perché come dicevo molti contratti sono contratti a termine quindi a breve termine e quindi non c'è la tutela del lavoro non c'è la tutela dell'impiego quindi continuativo è stato un periodo molto duro Tante le produzioni saltate a causa del covid l'ente concerti Pesaro però è pronto per ripartire Sì abbiamo avuto un lunghissimo periodo di natività siamo pronti per ripartire con una stagione molto bella con grandi nomi sempre in linea con quello che è la storia dell'ente concerti sia quella di un ente che dal 1961 opera nel territorio ed è riconosciuto dallo Stato come il soggetto più importante della regione per la programmazione della musica classica e da camera non della lirica ovviamente perché per la lirica abbiamo il ROF abbiamo tante istituzioni che comunque sono importantissime ecco questo è un ruolo che ci siamo in qualche modo che l'ente concerti si è saputo meritare e grazie a questa cosa qui a questo riconoscimento riusciremo comunque come sempre a programmare una stagione in grado di portare veramente i più grandi artisti del mondo quelli che calpestano i palcoscenici dei grandi teatri delle grandi capitali europee del mondo e proprio in merito all'ente concerti di Pesaro domani sabato 15 maggio alle ore 19 la grande musica torna al teatro Rossini con il primo di tre prestigiosi appuntamenti della nuova rassegna presentata qualche giorno fa ad esibirsi sarà Ivo Pogorelic, icona del pianismo internazionale che offrirà al pubblico pesarese un recital dedicato a Chopin dal titolo Ritorno alla musica anche quest'anno numerose città delle Marche tra cui anche Pesaro parteciperanno a Meet the Meeting verso il Meeting 2021 il primo appuntamento che lancerà la 42esima edizione del Meeting di Rimini e che ne inaugurerà il cantiere la diretta dell'evento avverrà dalla Fiera di Rimini sabato 15 maggio alle ore 18.30 e si potrà seguire online sul sito e sui canali Facebook e Youtube del Meeting di Rimini Meet the Meeting anticiperà i principali temi e contenuti del Meeting 2021 con un invito a sostenerne la costruzione un faro di cinema nella notte una luce di speranza su un presente complesso e questa la lettura data al manifesto realizzato da Michele Bernardi per la 57esima mostra internazionale del nuovo cinema in programma a Pesaro dal 19 al 26 giugno Bernardi ha deciso di rendere omaggio al cinema e alla sua forza immaginifica se non si interviene urgentemente presto del San Benedetto non resteranno che macerie e questo il messaggio emerso dall'incontro avvenuto ieri all'interno dell'ex manicomio organizzato dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri insieme all'Asur un incontro al quale è stato invitato anche una delegazione dell'associazione Tocca Elmur alla visita hanno preso parte anche Lorenzo Lugli capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Pesaro e il dottor Romeo Magnoni direttore di Area Vasta 1 si chiama per un mondo senza plastica norme e buone pratiche per il territorio pesarese e marchigiano l'appuntamento organizzato dalle Gambiente Il Ragusello di Pesaro con il patrocino del Comune e del Parco San Bartolo appuntamento che in programma domani sabato 15 maggio alle 17 nel giardino della sede dell'ente in Viale Varsavia in zona Baia Flaminia un incontro che si propone di verificare concretamente l'applicazione della legge regionale e dell'ordinanza comunale del 2019 per ridurre il consumo della plastica anche in considerazione dell'imminente stagione estiva Le botteghe storiche dei maestri ceramisti di Pesaro mostreranno i loro tesori domani e domenica 15 e 16 maggio in occasione dell'evento Buongiorno Ceramica che valorizza una delle più belle eccellenze artistiche del Made in Italy Ceramiche di Molaroni, Donzelli, Bucci, Desimoni o Verzolini botteghe storiche dell'arte maiolica pesarese che sabato 15 e domenica 16 maggio aprono le porte a cittadini e visitatori in occasione di Buongiorno Ceramica una due giorni che su scala nazionale viene dedicata ad una delle più affascinanti eccellenze artigianali e artistiche del Made in Italy un'arte in cui Pesaro vanta una tradizione secolare di città a radicata vocazione ceramista manufatti eccezionali, tecniche pittoriche e stili decorativi un'occasione per scoprire un movimento creativo che dalle botteghe storiche spazierà in questi due giorni in visite guidate ai tesori dei musei civici del Museo Scolastico del Liceo Mengaroni e del Castiglione noto ristorante della zona mare pesarese che a cavallo fra XIX e XX secolo fu la fucina del maio licaro pesarese Ferruccio Mengaroni Sabato 15 e domenica 16 apro lo studio a tutti quelli che vogliono partecipare venire a visitare lo studio d'arte per scoprire che cos'è la ceramica parliamo un po' di ceramica vi farò scoprire un po' di curiosità sempre sul campo della ceramica e vedrete anche delle persone dei miei corsisti che dipingeranno un pezzo dal vivo in ceramica ci sarò io che presenterò la cosa e aperto anche a tutte le varie domande che vorranno fare insomma vorrete fare poi sulla ceramica o altre cose insomma ecco riguardante ovviamente la ceramica e l'arte il carnevale di Fano si svolgerà anche quest'anno e sarà una edizione estiva e con una formula rivisitata secondo le possibilità del momento questa mattina la presentazione dei bozzetti dei nuovi carri all'insegna di Dante e della satira politica il servizio è di Simone Celli da una parte Dante Alighieri che tenta di somministrare loro il vaccino dell'intelligenza dall'altra vengono invece raffigurati niente meno che in un enorme water e senza tante distinzioni di partito non c'è pace per l'attuale classe politica italiana ed è tutta colpa si fa per dire dei maestri carristi del carnevale di Fano a parlare chiaro sono i bozzetti dei nuovi carri in vista del carnevale estatico previsto per gli ultimi due weekend di agosto il tutto come già annunciato a tema Dante il quale non verrà affatto risparmiato dalla pungente satira fanese il terzo carro lo raffigura infatti nella veste di donnaiolo mentre viene letteralmente ripescato dalla sua Beatrice il carnevale quest'anno sarà estatico estatico da estate da staticità inevitabilmente per la pandemia e anche estasiato quindi comunque avremo tutte le caratteristiche che ci aspettiamo dal nostro carnevale anche se sarà in forma meno ridanciana e volutamente lo facciamo proprio perché comunque ancora non siamo fuori da questa da questa terribile malattia che ci ha colpito tutto il mondo e quindi per rispetto a chi ancora soffre abbiamo pensato ad un carnevale più delicato insomma però sarà altrettanto comunque divertente altrettanto satirico oggi abbiamo presentato i grandi carri allegorici dedicati a Dante come sapete quest'anno è il settecentenario della morte di Dante quindi il carnevale di Fano dedica tutta la sua edizione a Dante Alighieri una grande collaborazione con il comune di Gradara che pagherà un carro di seconda categoria dedicato ovviamente a Paolo e Francesca e una grande collaborazione che continua con il Nolfi e Polloni tutti gli artisti e i ragazzi del Nolfi hanno disegnato un bozzetto appunto sul nostro Jacopo del Cassero e sulle caratteristiche di Fano quindi comunque un grande carnevale con grandi eventi le ultimi due weekend di agosto in centro storico e al mare questo per dare anche la possibilità insomma all'economia di poter comunque vivere anche a fine estate il carnevale è l'identità della nostra città era importante per noi mantenere anche quest'anno il carnevale era importante far lavorare le maestranze quindi mantenere le dinamiche dei maestri carristi di fare in modo che questi potessero lavorare far sì che la macchina del carnevale rimanesse in moto l'abbiamo fatto ovviamente investendo su di esso e facendo in modo che tutte le attività che andiamo a fare quindi il carnevale che sarà nel periodo estivo d'agosto le ultime due settimane d'agosto possa far ricadere la propria attività in modo positivo sull'economia del territorio da qui tante collaborazioni si aprono ad esempio essendo il carnevale quest'anno a tema di Dante la collaborazione con il comune di Gradara le collaborazioni con l'Istituto Onolfi a Polloni quindi comunque il legame cerca di stringere rapporti con il resto d'Italia quindi con altri comune con altre associazioni per far sì che ovviamente ci sia un'integrazione con gli intenti e quindi ci sia anche un movimento culturale positivo nei confronti della nostra città una formula nuova dunque un carnevale ripensato a dispetto della pandemia con i carri fermi e non più in movimento ma in totale sicurezza siamo stati in prefettura e ovviamente ci hanno confermato che non si potrà fare una sfilata e così non si potrà neanche lanciare caramelle perché insomma direi che disinfettarne una a una sarebbe un po' impossibile e quindi quest'anno dobbiamo rinunciare a questo però stiamo lavorando ad una ad una piccola sorpresa per l'estate con una grande azienda quindi qualche cosa comunque ci sarà ve ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana ora sono arrivate sono le giornate FAI di primavera 2021 che domani e domenica si celebreranno in tutta Italia aprendo tesori culturali e paesaggistici solitamente chiusi alle visite al pubblico tra questi c'è anche Rocca Costanza di Pesaro la parola d'ordine di queste giornate FAI di primavera è rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e quindi tutta l'organizzazione è stata tarata su questo principio quindi non avremo le solite giornate FAI di primavera con un grande afflusso di gente in interrotto però pur se il numero dei visitatori potrà essere molto ridotto rispetto alle edizioni passate siamo veramente felici di poter offrire un'ampia gamma di scelte e di tipologie di beni da visitare noi qui ci troviamo a Rocca Costanza che naturalmente è il gioiello di questa edizione delle giornate FAI di primavera non solo per Pesaro ma anche per le Marche noi avremo la possibilità di fare un bel percorso all'interno della Rocca quindi di far vedere anche spazi che non erano mai stati visti prima e soprattutto quest'anno in cui purtroppo non possiamo avere molti apprendisti ciceroni che guidino le nostre visite abbiamo però avuto la fortuna la possibilità e quindi ringraziamo molto per questo di avere molti esperti studiosi storici dell'arte guide che ci accompagnano e quindi le visite avranno sicuramente un approfondimento particolare quindi cerchiamo abbiamo cercato pur nelle difficoltà del momento di trovare il modo di poter accogliere i visitatori anche se purtroppo i numeri sono veramente diciamo ridotti rispetto a quello che si faceva in passato le altre aperture che abbiamo previsto sono ad Urbino due aperture molto importanti la chiesa di San Francesco di Paola e l'oratorio della morte la chiesa di San Francesco di Paola costruita nel 1603 era stata voluta come cappella diciamo votiva per diciamo di buon auspicio per la nascita del figlio di Francesco Maria II della Rovere sarà un'apertura veramente interessante così come lo è l'oratorio della morte una piccola cappella che purtroppo è chiusa da alcuni anni perché a causa degli eventi sismici del 2016 ha subito alcuni danni e non può essere diciamo accessibile quindi la vedremo dalle porte aperte dall'esterno gli altri luoghi che apriremo sono tutti luoghi diciamo sono più percorsi che luoghi nel senso che abbiamo pensato di fare una scelta che permettesse alle persone ecco di stare all'aperto anche di stare nel territorio non solo concentrati diciamo nei grandi non nelle grandi città e quindi avremo per esempio una bellissima passeggiata a Cagli e abbiamo Fossombrone dove ci sarà un percorso dal centro storico fino alla cittadella per arrivare fino alla Rocca abbiamo Sant'Angelo Invado anche questa una cittadina molto importante ricca di palazzi ville abbiamo poi Pergola a Pergola abbiamo la proposta sono due escursioni fuori del centro storico abbiamo naturalmente Fano a Fano avremo l'apertura dei passeggi di Canale Albani altri luoghi che apriremo sono tre luoghi del cuore quindi Candelara Santo Stefano di Gaifa e Lamoli che sono luoghi che nell'ultimo censimento fa dei luoghi del cuore hanno avuto un grande successo raccogliendo molte adesioni quindi luoghi identitari molto sentiti dalla popolazione in cui i nostri volontari locali ci offrono la possibilità di conoscere i segreti e il paesaggio diciamo circostante andando alla scoperta proprio delle origini di questi luoghi e con questo servizio si conclude questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci però vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata questa sera alle 21.15 va in onda il nostro speciale realizzato all'istituto alberghiero Santa Marta in cui presentiamo il corso serale di enogastronomia per giovani e adulti l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 in diretta con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali condotta per l'occasione d'Antonio Astuti sabato di grande sport su Rossini TV perché alle 20 ci sarà la partita dell'Ital Service Pesaro contro la signor prestito Matera una partita valevole per gara 3 dei quarti di finale playoff dunque ci si gioca l'accesso alle semifinali Scudetto e come sempre vi ricordiamo di scaricare la nostra app di Rossini TV uno strumento fondamentale per poter rivedere i nostri programmi avere tutte le informazioni portate di click e anche per effettuare segnalazioni al nostro TG e con questi appuntamenti informazioni si conclude questa nostra edizione del telegiornale Rossini News da parte mia e di tutta la redazione il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti